Ecco l'ora! Ecco l'ora che arriva! E' quello nuovo! E' quello nuovo! Finalmente! Che bello! E' bellissimo! Il treno è sempre il treno! Buonasera e bentornati al Tg di prealpina.it per un'edizione che anche in questo caso è interamente dedicata alla cronaca. Iniziamo con un aggiornamento dell'inseguimento che questa mattina ha tenuto impegnati i carabinieri e polizia stradale per oltre 60 chilometri. E' incensurato e non aveva alcuna ragione logica per fare ciò che ha fatto il 53enne di origini siciliane ma residente a Magenta che questa mattina intorno alle 11 ha forzato due posti di blocco ingaggiandoli in seguimento di 64 chilometri con i carabinieri da Macuniaga fino alla barriera autostradale di Arona sul lago Maggiore. I carabinieri di Verbagna lo hanno arrestato a mezzogiorno e mezza con le accuse di resistenza aggravata e continuata, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato. La sua fuga era iniziata a Macuniaga appunto lungo la strada statale 549. Una pattuglia aveva intimato l'alta a un normale posto di controllo alla sua Volkswagen T-Roc grigia. Invece di fermarsi e mostrare patente e libretto l'uomo aveva accelerato tentando di dileguarsi. E ora a bollate per un incidente che ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario a nord di Milano. Non ce l'ha fatta la donna di 48 anni che questa mattina poco dopo le 10 è stata travolta da un treno a bollate appunto nel milanese. A riferirlo è l'agenzia regionale emergenza urgenza. La donna si trovava lungo il binario 3 poco distante dalla stazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polfer che dovrà ora accertare la dinamica di quanto accaduto. In seguito a questo episodio sulla linea fra Milano e Como si sono registrati ritardi e cancellazioni. In particolare sono state cancellate 32 corse tra Milano Cadorna e Saronno. Cancellati anche i treni tra Saronno e Milano Bovisa. E ora torniamo in vetta al Monte Poncione per parlare del vandalismo che nei giorni scorsi ha colpito la croce che domina la Valganna perché la storia si conclude con un lieto fine. Sono stato io, mi scuso e voglio riparare al danno compiuto. Nei giorni scorsi qualcuno aveva riempito di scritte scarabocchi il basamento del simbolo della cima suscitando la rabbia di molti tra cui quella dell'associazione ON che da anni si prende cura della montagna simbolo di Valganna e Val Ceresio. In particolare Max Laudadio fondatore di ON aveva chiesto al responsabile di farsi avanti altrimenti sarebbe stato denunciato a seguito delle immagini immortalate dalla telecamera presente sulla vetta. In cambio del mea culpa sarebbe arrivato il perdono. E così è stato. Oggi, racconta Laudadio, con grande meraviglia posso comunicare che il vandalo mi ha scritto, si è scusato e ha chiesto di poter rimediare riverniciando la croce. Spostiamoci a Legnano. Giornata complicata quella di oggi per 1.300 dipendenti dell'azienda socio-sanitaria territoriale ovest milanese e in particolare per coloro che lavorano nel nuovo ospedale di Legnano. Le disposizioni del governo prevedono che da oggi chiunque abbia almeno 50 anni deva presentare il Green Pass prima di accedere al posto di lavoro, ma i lettori automatici che l'azienda ha installato accanto ai cartellini da timbrare stamattina facevano le bizze. Per riuscire a convalidare il Green Pass c'è chi ha speso in coda più di mezz'ora, arrivando inevitabilmente in ritardo sul posto di lavoro. Si spera che l'inconveniente possa essere risolto a breve, meglio se già nella giornata di domani. A chiudere a Busto Arsizio, dove in Via Torino c'è un parco pubblico dimenticato. Vediamo il video di Francesco Inguscio con immagini dell'Agenzia Blitz. È il degrado a farla da padrone al Parco Brazzelli, la vasta area verde adiacente all'Istituto Professionale Verri di Via Torino. Il parco, che è di proprietà della provincia di Varese, avrebbe delle notevoli potenzialità, che non vengono però sfruttate a causa dell'incuria dell'insufficiente manutenzione. Panchine e cartelli danneggiati, una vasca completamente abbandonata e ormai adibita pattumiera, bagni inutilizzabili ridotti di fatto a una discarica, e l'elenco delle brutture potrebbe continuare a lungo. Un vero peccato perché, quanto a dimensioni e potenziali servizi, il parco situato in zona Santi Apostoli potrebbe essere un vero gioiello, ma bisognerebbe ricominciare a occuparsene con maggiore assiduità e attenzione. E per questa edizione è tutto. L'appuntamento con il Tg di prealpina.it torna domani alle 13. Una buona serata a tutti.